Per iniziare andiamo su github.com slash gaucio 1978 Tra i repository backable e andiamo col download Una volta scompattato il file troveremo varie cartelle e sottocartelle Tra cui nella cartella hardware la sottocartella box con il progetto del box da stampare con la stampa 3D E la cartella system interconnections con le interconnessioni Sulle interconnessioni vediamo che abbiamo impiegato un canable Stiamo parlando in sostanza di questo oggetto Dove da una parte ha l'USB per comunicare col PC Dove ci possono girare dei programmi per sniffare i dati su Canbus Dall'altra parte c'è una morsettiera per andare su Canbus Qui abbiamo un header per l'interfaccia JTAG Dove io uso uno dei pin per disabilitare lo start e stop della macchina Questo di solito è un pulsante di boot per far partire l'integrato in modalità bootloader per caricare il firmware Qui è rappresentato come jumper E qui c'è un jumper, di solito un selettore per inserire o disinserire la resistenza di terminazione su Canbus Che noi non dobbiamo usare Chema di interconnessione Nel box stampato con la stampante 3D Oltre al canable ospitiamo un DC-DC per convertire la 12V della macchina nella 5V che vuole il canable Questo si può evitare, eliminare Se abbiamo la pazienza di spillare la 5V dall'USB della macchina Se usate la funzione immobilizer è necessario eliminare il DC-DC e usare direttamente la tensione dall'USB Per fare in modo che il canable venga alimentato appena il ladro tenta la connessione con l'RF Hub Infatti appena ci si connette l'RF Hub vedrete che arriva tensione la 5V all'USB La 12V invece a me serve comunque perché devo alimentare la striscia di LED a 12V Quindi in sostanza dal connettore della start e stop della macchina Ho spillato questa 12V che è presente solo quando il quadro è acceso Che va ad alimentare sia la striscia di LED ma anche il DC-DC che a sua volta alimenta il canable Sullo stesso connettore il pin 5 l'ho mandato ad un resistore da 1,5K e poi ad un digital I.O.O. Che quando cortocircuitato a massa determina l'attivazione Simula un po' la pressione del pulsante per disabilitare lo start e stop Dal diagnostico invece dal connettore OBD ho preso i segnali CAN-H e CAN-L e li ho mandati direttamente al canable La terminazione resistiva non è inserita quindi l'interruttorino si trova in questa posizione Dall'altra parte sull'USB anziché impiegarlo come sniffer Cambiando la funzionalità può andare a controllare la striscia di LED Quindi da questo pin dell'USB faremo uscire il nostro PWM che va a implementare il protocollo della striscia di LED In questa sezione ho ricostruito lo schema elettrico interno del pannellino dove ci sono i vari pulsanti Tra cui quello di start e stop La parte in viola col multimetro l'ho ricostruito In sostanza quando premi il pulsante questi due switch vengono chiusi E quindi è un po' come inserire un resistore da 1,5K Per questo motivo ho usato un resistore da 1,5K che poi viene chiuso a massa nel canable La cartella hardware come dicevamo prima troviamo la cartella box Che contiene due progetti Inventor Uno per il box e uno per il coperchio della scatoletta in plastica Per ogni file c'è il progetto Inventor Una immagine PNG E il file in formato STL da impiegare per la stampa 3D Andiamo a vedere questi oggetti Il case è molto semplice e minimale Ha un'apertura per la porta USB E per il passaggio di un cavo In questa sezione andiamo a ospitare A poggiare il canable In questa sezione possiamo poggiare Il DCDC converter In questa sezione possiamo mettere una morsettiera E da questa zona può avvenire l'ingresso dell'altro cavo Che proviene appunto dal pannello della macchina Il coperchio ha delle sporgenze sul perimetro Per permettere al coperchio di incastrarsi bene I due fori di fissaggio E due torrette in questa posizione Questa che va a tenere in posizione il canable E questa che va a tenere in posizione il DCDC Procediamo quindi alla stampa 3D Del nostro oggetto Io l'ho fatto in PLA Sia del contenitore che del coperchietto Gli oggetti che andremo ad alloggiare Sono il DCDC Il connettorino singolo pin Con il resistore integrato Con il filo verde Il canable con la terminazione resistiva disinserita Un pin saldato su quella che era in origine l'interfaccia JTAG E poi una morsettiera Posizioniamo nella box la morsettiera Il canable Il DCDC converter Colleghiamo ai fili Le alimentazioni dalla morsettiera al DCDC E dal DCDC al canable Posizioniamo il resistore da 1,5K Tra il canable e la morsettiera Realizziamo un cavo che dal connettore della striscia di LED Porta l'alimentazione a due terminali scoperti E il filo di controllo al USB E' ottenuto recuperando un vecchio cavo USB Il connettore USB l'ho inserito nel canable E i due terminali sulla morsettiera Positivo e negativo Per la connessione verso l'automobile ho riusato un cavo maschio femmina USB Tagliandolo a metà E quindi il connettore maschio l'ho collegato alla nostra box E il femmine invece verso l'autovettura Passato il cavo USB Ho fissato il can L Filo bianco all'ultimo Il can H Filo verde al secondo Poi abbiamo Il filo rosso sulla 12V E il filo nero sulla negativo Il comando per disabilitare lo start e stop Ho preferito metterlo su un filo bianco separato Connesso quindi alla morsettiera Dopo aver caricato il firmware Possiamo chiudere la scatoletta Con due viti ad espansione A testa svasata Nella prossima puntata Tra i video nella playlist Vedremo come è strutturato il firmware Grazie a tutti